Sono Bruno Mazzuoli, sono la persona che si occupa della nostra azienda. La filosofia della vita in campagna. Io ho vissuto per tutta la vita in città facendo un altro lavoro e stando quotidianamente a contatto con il pubblico. Oggi è diventato particolarmente difficile avere il contatto quotidiano con le persone e quindi vivere in campagna, vivere la campagna, è una cosa bellissima. L'area Chianti dove vivo io è un piccolo paradiso e non lo dico solo io, lo dimostra anche la grande quantità di turismo e turisti che abbiamo. Il mio vino preferito è la nostra etichetta Nebbiano. È un centro sangiovese, un vino che piace a chi piace tanto il sangiovese. Passando tra i vigneti la cosa più bella è la primavera, il periodo primaverile. Quando vedi la rinascita delle viti, quando vedi che parte una nuova campagna e questa è sempre la parte emozionante perché sai che cosa vedi ma non sai che cosa riuscirai a fare quando arriviamo in fondo. Quindi diciamo è una parte che è piena di stimoli e di curiosità.